Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilberto, sono un ragazzo di 22 anni che frequenta l'Università Economia e Commercio a Cuneo ho una società di consulenza e contabilità per le aziende e nel tempo libero mi dedico anche ai miei investimenti oggi come purtroppo non l'ascosto mese ma quello prima ancora vi andrò a consigliare tre azioni che sto seguendo e che voglio o aumentare le posizioni o semplicemente comprare nel prossimo mese, ovvero settembre prima di partire però voglio andare a vedere quello che è stato il rendimento delle azioni che vi avevo consigliato a luglio giusto per avere un rendiconto di quello che è stato allora apriamo Google Drive, come potete vedere ho creato un foglio Google per monitorare quello che è stato l'andamento dei titoli che vi ho consigliato perché ci tengo particolarmente e che soprattutto quelli che vi consiglio nel lungo periodo possano fornirvi dei rendimenti buoni anche a voi come potete vedere per chi non si fidasse e trovate il video sul canale avevo consigliato queste tre aziende qua ovvero Visa, Bank of America e Westrock che mi risultavano particolarmente sottovalutate a mio avviso ci tengo poi a precisare anche che tra l'altro io avevo consigliato, io ho preso l'importo del video ma se vi ricordate bene nel video avevo detto che avreste secondo me potuto prenderla anche a prezzi minori infatti Visa poco dopo il video è arrivata all'incirca a 190 e quindi avreste potuto prenderla anche all'interno a 190 avreste avuto un rendimento maggiore purtroppo Visa è crollata del 2% nell'ultima giornata ma mi pare che si è crollata anche un pelo di più nella giornata precedente comunque un 4% in praticamente un mese e mezzo direi che comunque è buonissimo mentre Bank of America è salita giustamente del 13% perché secondo me era un prezzo bassissimo e Westrock è salita del 16% che a mio avviso era veramente veramente troppo sottovalutata a 28 io ce l'ho in portafoglio all'incirca a 27 qualcosa ed è la mia più grande posizione in assoluto le tre aziende che vado a consigliarvi oggi però sono una che a mio avviso crescerà veramente tantissimo nei prossimi 5 anni una che è già un colosso ma credo possa crescere ancora molto nel prossimo periodo e la terza invece è un'azione che vi consiglierò che offra anche un bel dividendo la prima azione che voglio consigliarvi è Paycam Software che come potete vedere qua è un componente dell'SMP 500 è stata riconosciuta dalla rivista Fortune come una delle votate in borsa in più rapida crescita nel mondo e la rivista Forbes l'ha classificata come una delle prime 5 società tecnologiche quotate in borsa con la crescita più rapida nella sua classifica Fast Tech a mio avviso non posso dirvi che si è sottorutato in questo momento qua perché come potete vedere qua ha un PE di circa 90 che è particolarmente alto però il PE è abbastanza giustificato dalla crescita che sta avendo in questi ultimi anni infatti come potete vedere Paycom ha avuto una crescita degli utili del 762% in 5 anni l'utile operazione qua io l'ho modificato e ho messo come potete vedere qua circa un 300% di crescita perché questa percentuale qua mi va a condizionare il calcolo del prezzo dell'azione che voglio avere quindi per stare un po' più a ribasso quindi aumentare la margine di sicurezza ho preso in esame gli ultimi 4 anni anziché 5 quindi ho stimato una crescita del 318% degli utili per azione però prima di vedere il suo bilancio andiamo a vedere chi è, cosa fanno Paycom software permetto che non sto qua a spiegarvi troppo cosa fanno perché non voglio fare un video dedicato solamente a Paycom però voglio farvi capire che diciamo che è un'applicazione e un software che permette di trovare, pagare, sviluppare e trattenere ottimi dipendenti questa traduzione in italiano ma molto in generale è un'applicazione che vi permette di gestire i propri dipendenti ci sono anche le applicazioni, io una cosa che faccio spesso è andare a vedere come sono valutate le applicazioni sui propri store di riferimento quindi apriamo Google Play e App Store e vediamo quanto sono quotate da 0 a 5 stelle su Google Play ha praticamente 4,5 di stelline su 5 quindi è molto alto con più di 1 milione di installazioni su App Store ha 4,7 stelle su 5 di cui 390 mila voti quindi è valutata veramente molto molto bene andiamo a vedere però cosa Market Screener prevede per Paycom software prevede che quest'anno la capitalizzazione rimarrà particolarmente la stessa prevede che il PE ratio si abbasserà particolarmente all'incirca nel 2022 perché ve lo dico sinceramente un PE di 80 è molto 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 alto anche se un PE del genere è giustificato dal fatto che cresca veramente tantissimo Paycom come vedete le previsioni per Paycom sono che praticamente acquisirà sempre più fette di mercato i ricavi aumenteranno praticamente a 1 miliardo nel 2022 e un EPS che si trasformerà in 4,27 nel 2022 vediamo brevemente però quella che è stata la mia analisi e a quale prezzo io personalmente la comparerei come potete vedere i ricavi sono aumentati del 228 i costi del 168 come vedete io cerco sempre di capire anche di quanto aumentano i costi in relazione ai ricavi perché se il costo aumenta del 100% ma i ricavi aumentano del 200% vuol dire che il margine si è ingrandito quindi mi va bene lo stesso se però i ricavi aumentano del 100% tu dici ok minchia buono però i costi mi salgono del 300% a quel punto lì not stonks no? immagino come potete vedere io penso che la situazione del conto economico sia rosea andiamo a vedere però l'analisi dello stato patrimoniale vediamo le attività correnti che aumentano il 146 quelle non correnti del 433% e le passività correnti le passività non correnti di 141 il 306 ci tengo anche sempre a guardare quello che è l'andamento delle passività in relazione con l'attività come vedete le passività correnti sono aumentate sì del 141% ma sono aumentate percentualmente di meno rispetto alle attività correnti stessa cosa vale per le attività non correnti il patrimonio netto è aumentato tantissimo negli ultimi 5 anni del 436% quindi molto 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 alto infatti quello che era un problema di Paycam Software era la relazione che c'era tra il debito comunque le passività in generale in relazione al patrimonio netto che come vedete qua un rapporto tra passività e patrimonio netto sopra il 2% già a me tendenzialmente mi puzza abbastanza però ho deciso comunque di investirci sopra perché sta diminuendo tantissimo nel corso del tempo passo da 7,92 a 3,72 solo i 5 anni quindi penso che nei prossimi 3-4 anni si aggirerà anche sotto il 2 e quindi a quel punto lì mi andrebbe bene invece le passività hanno ancora il suo patrimonio netto e sostenibilità adesso andiamo a vedere quello che prevedo io per Paycam nei prossimi 5 anni attualmente Paycam ha un valore di 270,75 e purtroppo per fortuna c'è il 4,67% nell'ultima giornata di mercato la stima target a un anno è 292 quindi praticamente un 10% di profit mentre quella di Wallmine è 285 quindi solo un 5% di profit ma quello che prevedo io è un prezzo tra 5 anni di circa l'801 tra 5 anni poi non so se farei uno split o cose del genere comunque quello che prevedo io è che sia un prezzo intorno all'801 se Paycam si comporterà nei prossimi 5 anni come i 5 precedenti un prezzo buono da acquistarla senza margine di sicurezza è 497 con un rendimento del 10% in 5 anni 10% anno per i prossimi 5 anni è un prezzo ottimale sotto i 398 detto questo io prevedo che il P.E. si abbasserà drasticamente da circa 90 che adesso ha circa 57 e sarà destinato ad abbassarsi sempre di più prevedo EPS di circa 13,9 tra 5 anni quindi un prezzo appunto di 801 detto questo passiamo alla seconda azione la seconda azione che voglio consigliarvi è Adobe che a mio avviso in un portafoglio Growth non può veramente mancare vi avviso che in questo momento si trova leggermente sopravvalutata ma comunque penso che in un'ottica lungo termine quindi 5 anni minimo sia un'azione che non si può non avere in portafoglio probabilmente il programma che tutti di voi conosceranno è Adobe Acrobat PDF Reader che vi permette di leggere e modificare i PDF ma in realtà io penso che i due programmi di punta di Adobe siano Adobe Premiere e Adobe Photoshop che sono due bombe ma noi non siamo dei grafici noi vogliamo sapere bilanci, prospettive per il futuro quindi evitiamo di guardare questo qua ma andiamo a tenere su Market Screener e vediamo cosa prevede Market Screener per i prossimi 5 anni di Adobe innanzitutto vediamo che come preventivo io ci sarà un lieve abbassamento del PI perché un PI di... attualmente è un PI di 64 perché è molto molto alto anche se è scesa leggermente negli ultimi 5 giorni infatti stava a 5,33 che per me era un prezzo insensato infatti non sono ancora entrato dovesse crollare ancora un pelettino entrerò però quello che ci interessa a noi è le prospettive future per quanto riguarda ricavi utili e soprattutto vediamo se è sostenibile il bilancio di Adobe come vedete i ricavi sono previsti in crescita per almeno i prossimi 3 anni cresceranno anche nel 2020 nonostante la pandemia andiamo però a vedere quello che è stato l'andamento negli ultimi 5 anni di Adobe di Adobe innanzitutto vediamo che vabbè le vendite sono cresciute di più del 20% annualmente quindi una roba indecente utili pure cioè no ma stiamo scherzando ragazzi una roba indecente che ha fatto negli ultimi 5 anni adobe come vedete Wallmine e Yahoo danno un price target a un anno di 442 perché come vi dicevo attualmente è leggermente sopravvalutata però gli investimenti che faccio io sono investimenti a lungo termine quindi almeno 5 anni quindi attualmente non mi interessa più di tanto il prezzo di entrata so da vari indicatori che utilizzo io che è leggermente sopravvalutata dovessi scendere ancora di 5 5-10% entrerò in ottica 5 anni se volete vedere quelli che sono i prodotti di punta di Adobe li trovate su Wikipedia sono Acrobat come vi dicevo Photoshop Lightroom mi sono dimenticato Illustrator che è anche una bomba Magento e After Effects che è una roba indecente il fatturato del 2019 sta a 11 miliardi di dollari quindi un colosso ma andiamo a vedere quello che è la mia analisi per i prossimi 5 anni come vedete i ricavi sono metti del 133% i costi del 103% gli utili lordi del 267% gli utili netti del 369% gli utili per azione del 384% il PI è sceso il 4% in 5 anni quindi io prevedo che all'incerca scenderà più o meno anche dello stesso un po' di più un po' di meno per i prossimi 5 anni io mi baso sullo storico anche se lo storico non è garanzia del futuro però mi piacciono i numeri mi piace la statistica mi baso su quello e ovviamente sulla visione che può avere il mio cervello per il futuro conto economico come sempre una bomba lo stato patrimoniale idem ma come potete vedere i segni in rosso le cose che non mi fanno particolarmente impazzire infatti vedo che le passività correnti sono aumentate del 270% mentre le attività correnti sono semplicemente aumentate del 35% che è molto di meno infatti se volete vedere poi il rapporto attività correnti su passività correnti è sotto all'1 quindi vuol dire che le attività correnti sono più basse infatti 6 miliardi su 8 miliardi però se noi andiamo a vederci la situazione delle passività rapportate al patrimonio netto diciamo che è sostenibilissimo infatti abbiamo un rapporto sotto addirittura all'1 quindi top detto questo secondo i miei calcoli sempre che possono essere giusti o sbagliati attualmente un prezzo giusto per avere un rendimento del 10% sarebbe 819 questo è dovuto a cosa? è dovuto semplicemente al fatto che andiamo a prendere quelli che sono i dati storici di adobe quindi se adobe crescesse nei prossimi 5 anni come cresciuta nei 5 anni precedenti per avere un rendimento di solamente il 10% ci basterebbe semplicemente comprarla a 819 questo cosa vuol dire? che tra 5 anni sarà sicuramente a 1320 il prezzo di adobe? no non è sicuro però noi prendiamo quello che è lo storico e lo rapportiamo al futuro tutto qua quindi io mi tengo sempre un margine di sicurezza del 20% quindi penso che un prezzo ottimale sia sotto ai 655 quindi quello che faccio io è inserire il prezzo attuale a cui sta adobe e niente gli metto un margine di sicurezza mi trovo al margine di sicurezza che ho quindi se io comprasse al 499 un margine di sicurezza del 41% su un prezzo di acquisto che mi garantirebbe un 10% quindi a mio avviso nonostante sia attualmente un pelino sopravvalutata rispetto a quanto dovrebbe valere comunque mi riuscirebbe a garantire un 10% anno più di un 10% anno nei prossimi 5 anni se manteneste le aspettative come gli scorsi 5 anni la terza azione che vado a consigliarvi è un'azione ad alto dividendo è una banca in ottima e grande crescita negli ultimi 5 anni in America io tendenzialmente alterno azioni growth ma anche ad azioni dividend perché perché ho bisogno che mi si crei un flusso di cassa che mi permetta di reinvestire ciò che ottengo dei dividendi in magari azioni growth o altre azioni da dividendo questo perché voglio avere magari in tempi in cui ci sarà qualche crisi nel mercato azionario voglio avere la liquidità necessaria per comprare nuove azioni vediamo market trainer cosa prevede per Huntington Bankshare per i prossimi 5 anni ovviamente le le banche sono molto colpite dei tassi di interesse bassissimi generati dalla Federal Reserve poi sono anche toccate dal fatto che c'è stata la pandemia sono sicuramente molto più sono sicuramente state molto più attaccate rispetto magari a dei titoli tech come possono essere Adobe o Paycam detto questo però io penso che attualmente sia comunque sottovalutato come potete vedere gli utili diminuiranno praticamente del 50% nel 2020 ma ritorneranno a salire addirittura solamente in praticamente due anni successivi e torneranno a crescere detto questo però noi andiamo a vederci quello che l'analisi ad un anno di Wallmine è quella di Yahoo Finance il primo da un price target a 11 dollari quindi un profit del 6,54% escludendo i dividendi che sono molto alti di circa il 5-6% se non ricordo male dovrebbe esserci scritto qua da qualche parte dividendi il 6% quindi molto molto alto quindi praticamente avreste escludendo le tasse comunque metti un 6% più un 6% quindi hai circa un 13% se le aspettative si realizzasse invece quelle di Yahoo Finance sono un po' più resti e danno un price target a 10,63% quindi un 10% di profitto andiamo a vederci un attimo qual è lo storico di Huntington Bank Shares come potete vedere negli ultimi 5 anni ha cresciuto i ricavi notevolmente ha cresciuto anche gli utili costantemente ogni anno e di conseguenza anche ovviamente gli EPS gli utili per azione andiamo a vedere quindi qual è un price target a cui comprerei io come potete vedere come vi dicevo la situazione del conto economico è particolarmente positiva costi che sono metti del 45% in confronto al 56% dei ricavi e all'82% degli utili un EPS che ha metto il 57% in solamente 5 anni quindi più di un 10% anno un PE che sia leggermente abbassato di circa il 16% come potete vedere la situazione del stato patrimoniale non è roseissimo anche se il patrimonio netto aumenta il 79% in solamente 5 anni non dovrebbe farvi troppo strano vedere un rapporto passività sul patrimonio netto così alto perché si tratta di una banca quindi diciamo che è un rapporto tra molte virgolette sano e intorno ai 6-7 questo qua è leggermente alto io eviterei cioè io escluderei a priori rapporti più alti del 9-10 detto questo poi fate le vostre dovute valutazioni un price target a 5 anni io ho inserito cioè i miei calcoli hanno inserito 18,6 detto questo non sono sicuro al 100% che rispetterà le mie attese però sono sicuro vabbè io sono entrato particolarmente basso avrò un prezzo medio di carico di circa 7,70 quindi sto facendo veramente delle grandi robe con Huntington Bank Shares vediamo un po' penso di fare tipo il 30% può darsi in praticamente due mesi perché l'ho preso durante il crollo allora andiamo a vedere Huntington Bank Shares sto facendo il 28,20% quindi buono molto buono e niente io penso che un prezzo buono gli acquisiti sono intorno ai 12,26 considerando anche che ci lascia un dividendo del 6% ogni trimestre non il 6% ogni trimestre ma un 6% anno e ce lo rilascia ogni trimestre detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like un commento e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video